Sa come si dice prima di fare una foto? Sorridi. Perché? Perché bisogna sorridere prima di scattare una foto? Scusi, le foto a mia moglie le avete fatte oppure no? Lei è sicuro di volerle vedere queste foto? Ma certo che sono sicuro, io ho pagato per quelle foto. Io voglio sapere dove va mia moglie tutti i venerdì poveriggio, d'accordo? Non di eretta mia figlia fa questo mestiere con troppa filosofia. E io le sto dicendo che la verità è un concetto più complesso di una semplice fotografia. Vittorio Zampa, sono io il fondatore dell'agenzia Occhio Segreto. Le foto sono sue. Grazie. Le ho scattate io personalmente e anche sviluppate, non credo a questi trabiccoli moderni. La pellicola. Ma questa non è mia moglie? È sicuro. Ma certo che sono sicuro, mia moglie è bionda, questa è Bruna, vedo un po' lei. Ma lei da molto tempo non la vede, magari è andata dal parrucchiero. Ma che sta dicendo? Comunque io sono andato dove mi avete detto voi, via Roma 43. Via Roma 45! No, no signora, no, lei si sbaglia, guarda io ho il bigliettino qua che mi ha fatto mia figlia. E via Roma 43. 45. Quello è un 5. Ma voi siete matti? Senta, si è trattato di un refuso, ma non è nulla di irreparabile. E comunque io il lavoro l'ho fatto, ho scattato le foto e le ho spedite. Cosa? Le hai spedite? Tesoro, me l'hai scritto tu, NB, da spedire. Da seguire, da seguire. Ma questa è una G. E certo, se quella è un 5, quella è una G. Ma siete due cialtroni. Tesoro, ma magari manco sono arrivate. Le poste si sa che non funzionano. Zitto, zitto.